I Bari Caffè Dal 15 settembre ripartono i giovedì sera latini con Max Latino Dal 23 settembre il venerdì è all'insegna della musica dal vivo dagli anni 70 ad oggi con New Style & Janka Scommettiamo che ti diverti a Voghera in via Fratelli Rosselli 139 Benvenuti a Vox Populi Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno Il solito incontro per cercare di mettere a posto le cose quando ormai non c'è più niente da fare la solita incapacità di accettare la fine della relazione e questo basta per far sì che l'incontro finisca in tragedia Non è la trama di un film bensì una storia reale già sentita più volte Questa volta è successo a Parma dove Elisa a 39 anni è stata accoltellata dal compagno Il motivo? Lei voleva chiudere la relazione e lui no Come definiresti questa situazione? La psicopatica Sicuramente c'è qualcosa che non va nello psiche di queste persone che magari non riescono nemmeno ad immaginare come c'è una persona che non sa perdere come c'è una persona che non sa immaginare di poter vivere senza quest'altra persona che magari gli sta a fianco Secondo me è questo il pensiero che poi ci sono punti di vista diversi come chi può pensare abbia ucciso solamente perché è pazzo fuori di testa come chi può pensare che ha ucciso semplicemente perché non pensa di immaginare la sua vita con qualcun altro accanto un punto di vista Penso che sia una situazione deplorevole una tragedia veramente direi che i maschi vanno un po' educati perché questo senso del possesso primordiale ti do una clavata in testa e ti porto nella mia grotta mi sembra che ormai debba essere superato quindi credo che le donne si siano evoluti i maschi non tanto quindi ci deve essere un'educazione familiare cioè fin da piccoli le madri soprattutto devono educarli al rispetto della donna perché si parte da lì secondo me c'è proprio la mentalità ancora antica che sta al di sotto c'è un'inf... come dire una... sotto sotto anche se l'apparenza è diversa gratta un po' la mentalità è ancora quella lì va cambiata partendo dall'educazione familiare ma io penso che sia una cosa vergognosa una cosa che non dovrebbe succedere mai cioè tutti i giorni in televisione si sentono di queste tragedie le donne accoltellate bruciate con l'acido cioè è una vergogna ci dovrebbero essere delle leggi davvero prendere queste persone che fanno queste cose atroci e punirle, metterle in galera buttare via la chiave perché sono persone... non lo so io adesso abbiamo l'abitudine di dire sempre che sono persone malate dare sempre la colpa che è una persona malata ma diciamo che sono persone cattive che vogliono far del male cioè io penso, penso quello penso... quindi pene più severe per queste persone secondo lei si tratta più che altro di un fattore di educazione non solo, non solo è un fenomeno molto complesso io adesso non riesco a tracciarne tutte le caratteristiche mi sembra, ecco io esprimo un parere personale mi sembra che si debba fare ancora molto e siccome l'educazione è poi tutto sommato la responsabilità maggiore c'è la famiglia è da lì che si parte poi tutto il resto, tutto quello che sta fuori che induce l'uomo a comportarsi in questo modo insomma Tu hai mai conosciuto donne che hanno avuto a che fare con qualunque tipo di aggressione da parte di uomini? Sì, ma l'unica risposta che ti posso dare a questa domanda è che secondo me in questo caso bisogna fare come hanno fatto queste ragazze ovvero abbandonare determinate persone cercando di non farsi influenzare e farsi sottomettere perché secondo me non esiste cosa più bella dell'amore e se questo qui deve essere, diciamo, sotterrato da questa forza psicologica non ha più senso Parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti e per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spotchiocciolaocchiopavese.it Riparti con noi Riparti con Occhio Pavese